La mancata convocazione del figlio ha fatto scatenare l'ira di un genitore che si è precipitato all'interno degli spogliatoi dello stadio di Levane dove ci troviamo in questo momento e ha prima preso a male parole poi addirittura è passato alle mani con l'allenatore appunto di questa squadra. Una squadra dei Pulcini 2008 quindi bambini di appena 10 anni in questo campo che vedete alle mie spalle si teneva l'ottava edizione del torneo Leone Bianco Verde prima addirittura che appunto iniziassero le gare è successo tutto questo per sedare gli animi sono dovuti intervenire i carabinieri e il 118 gli operatori sanitari hanno poi trasportato l'allenatore all'ospedale della Gruccia del Valdarno per le ferite che aveva appunto riportato. La società l'atletico Levane Leona ha diffuso un comunicato stampa per prendere distanze da questo fatto gravissimo e riferendosi all'increscioso episodio leggiamo verificatosi in mattinata prima dell'ottavo torneo Leone Bianco Verde. Mentre esprimiamo la nostra solidarietà al nostro tesserato ci associamo e condividiamo tutte quelle considerazioni che con ogni mezzo hanno condannato il gesto del genitore e valuteremo velocemente come tutelare la nostra immagine nelle opportuni sedie secondo le leggi vigenti. Tra l'altro proprio a bordo campo c'è questo cartello dell'atletico Levane scuola calcio qualificata leggiamo dedicato proprio appunto ai genitori e ai nonni e recita così se siete venuti per vedermi giocare ricordatevi che l'allenatore ha il compito di allenare l'arbitro di arbitrare e io di giocare. Divertitevi anche voi con addirittura tre punti esclamativi il vostro compito è quello di incitare la mia squadra senza pensare ai consigli tecnici non urlate perché mi mettete in confusione non insultate l'arbitro e gli avversari insomma un consiglio che evidentemente questo genitore ha totalmente disatteso.